Benvenuti su ClaudioMasci.com In questo video andremo a vedere come collegare un iPhone a Windows 11 Prima di procedere però sono importanti alcune premesse La prima è che il PC con Windows 11 deve avere una connessione Bluetooth Quindi se avete un portatile nel 99% dei casi, ma diciamo anche il 100% Avete la connessione Bluetooth sicuramente, quindi avete un ricevitore Bluetooth Se avete un PC desktop, alcune schede madri hanno già un ricevitore Bluetooth Quindi dovreste già averlo Nel caso in cui non doveste averlo, avete la necessità, quindi dovrete comprare un adattatore USB In questo caso vi metterò il link nel mio articolo Quindi se non avete comunque un ricevitore Bluetooth per il PC Andate in descrizione, link articolo All'interno dell'articolo troverete il link al ricevitore che utilizzo io Quindi detto ciò andiamo a vedere come collegare l'iPhone al PC Importante per l'iPhone deve essere installata la versione iOS 14 Quindi gli iPhone troppo vecchi non è possibile collegarli Deve avere comunque almeno la versione 14 del sistema operativo Quindi da Windows andiamo su Start e clicchiamo su collegamento al telefono Se non avete collegamento al telefono, in cerca scrivete collegamento al telefono e dovreste trovarlo Quindi avviamolo, nel mio caso è già collegato al telefono Android Andrò quindi a collegarlo anche all'iPhone Se non avete ancora effettuato nessun collegamento Vi chiederà subito se volete collegare un telefono Android o un telefono iPhone Nel mio caso invece si aprirà già la schermata Quindi dovrò fare qualche passaggio in più Vi faccio vedere i passaggi in questo modo Se avete già un altro telefono Android già collegato Potete vedere come collegare anche un iPhone Quindi avviamo collegamento al telefono Qui come detto ho già il mio telefono collegato Vado a cliccare sull'ingranaggio Nelle impostazioni clicco su dispositivi Da qui mi farà vedere il mio telefono già collegato E la possibilità di collegare un nuovo dispositivo Quindi clicco su collega un nuovo dispositivo E mi chiede se voglio collegare un dispositivo Android o un iPhone Possiamo vedere che per sfruttare le funzionalità di collegamento al telefono Android deve avere la versione 7 o successiva E l'iPhone deve avere la versione iOS 14 o successiva Quindi come detto per Android avevo già fatto un video un po' di anni fa Che diciamo che è ancora valido Cambiano alcune cose ma funziona ancora Vediamo invece per l'iPhone Quindi clicchiamo su iPhone Adesso ci dice di associare i dispositivi Bluetooth Quindi prendiamo l'iPhone Apriamo la fotocamera E inquadriamo il QR code presente su Windows Quindi ci basterà semplicemente aprire l'app fotocamera E andare ad inquadrare Sull'iPhone comparirà la scritta associare i dispositivi Tocchiamola Ci aprirà un'app chiamata associare i dispositivi Tocchiamo la voce apri E cercherà di collegarsi Quindi dirà continuare il collegamento con il Bluetooth Tocchiamo la voce continua E ci dirà di far collegare PC alla connessione Bluetooth Tocchiamo la voce consenti Quindi in questo momento l'iPhone si sta associando Mi ha dato un numero Quindi mi dice associare il dispositivo Conferma che il codice sia visualizzato sull'iPhone Quindi assicuriamoci che il numero che vediamo sul PC Sia lo stesso dell'iPhone E tocchiamo la voce Associa sul PC e abbina sull'iPhone Quindi dobbiamo toccarli entrambi Quindi sull'iPhone E confermiamo sul PC Adesso ci dice che è associato E dall'iPhone ci chiede se vogliamo consentire di ricevere le notifiche sul PC Quindi possiamo scegliere se inviare le notifiche oppure no Tocchiamo la voce consenti se vogliamo ricevere le notifiche anche sul PC E a questo punto proseguiamo sul PC Quindi dall'iPhone al momento non dobbiamo fare altro Sul PC ci dice che nel dispositivo mobile dobbiamo aprire Bluetooth Setting, toccare eccetera Questo l'abbiamo già fatto Attiva condividi, attiva tutte le impostazioni Attiva mostra notifiche, attiva sincronizza i contatti Clicchiamo su continua E' tutto pronto L'iPhone ora è associato al PC Clicchiamo ancora su continua E in questo momento vediamo che ho due dispositivi Quindi ho sia l'iPhone sia il dispositivo Android collegati Ultima cosa Andiamo a vedere nelle impostazioni Dall'iPhone ovviamente possiamo vedere lo stato della batteria Le notifiche e quando arriveranno In generale possiamo attivare o disattivare i badge, i banner eccetera In funzionalità possiamo attivare o disattivare le funzionalità collegate all'iPhone Attualmente sono molto più limitate rispetto a quelle di Android Infatti possiamo ricevere le notifiche Possiamo anche scegliere in che modo mostrare le notifiche Ricevere i messaggi Quindi consentire di visualizzare i messaggi SMS E di ricevere e gestire le chiamate Dal PC Quindi nel mio caso andrò a disattivare Mi interessa magari ricevere solo le notifiche Mentre per Android abbiamo anche la possibilità di condividere gli appunti Quindi ad esempio possiamo copiare e incollare un testo dal PC Cioè copiare un testo dal PC e incollarlo su Android Copiare una foto e incollarla Copiare ad esempio una foto dallo smartphone e incollarla sul PC Quindi c'è un'integrazione migliore rispetto all'iPhone Per iPhone al momento è molto limitato È possibile collegarlo utilizzando il Bluetooth Ma si limita alla gestione di notifiche, messaggi e chiamate E nel caso in cui volessimo il lettore audio Quindi mostra che cosa stiamo ascoltando sull'iPhone Anche sul nostro PC Questa ovviamente è una limitazione attualmente imposta da Apple Quindi Microsoft non può avere maggiori informazioni O maggiori integrazioni con l'iPhone Quindi non può andare a prendere quello che è registrato negli appunti Non può fare troppe modifiche sul dispositivo Quindi purtroppo non può integrarsi in maniera più netta Come ad esempio può fare con Android La situazione attuale è questa Ovviamente c'è la possibilità che in futuro le integrazioni aumentino Quindi che possa effettuare più operazioni Al momento sono solo queste Se vogliamo scollegare il dispositivo da Windows Ci basterà riandare ovviamente sull'ingranaggio Andiamo su dispositivi Qui troviamo tutti i nostri dispositivi Nel caso dell'iPhone Andiamo sui tre puntini Clicchiamo su rimuovi e verrà scollegato Ovviamente abbiamo imposta come predefinito Sotto al dispositivo Possiamo scegliere quale utilizzare come predefinito Per questo video è tutto Se il video ti è piaciuto metti like In questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti Che vi interessano maggiormente Inoltre se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale e attiva la campanella Così non perderai tutti i miei prossimi video Ringrazio per aver visto il video fino alla fine Come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento Puoi scrivermi nei commenti E ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti